Con l'arrivo dell'inverno il maltempo non ha risparmiato la Sicilia, causando in molte zone dell'isola danni e disagi permanenti. Non si è fatta attendere l'azione del Governo regionale, che ha deliberato lo stato di crisi regionale e richiesto quello di emergenza nazionale per la durata di un anno per i territori di 55 comuni siciliani colpiti dal maltempo che ha interessato l'isola il 22, il 23, il 26, il 27 novembre e lo scorso 3 dicembre. Lo ha deciso l'aggiunta presieduta dal Governatore Renato Schifani su proposta della protezione civile regionale. Il provvedimento adottato, dice il Presidente della Regione, ci consente di attuare gli interventi immediati a supporto delle popolazioni afflitte dagli intensi eventi atmosferici che hanno colpito una vasta parte del nostro martoriato territorio. Al contempo chiediamo risorse e opera al Governo nazionale perché non possiamo essere lasciati soli a fronteggiare una situazione complessa che i cambiamenti climatici rendono sempre più pericolosa. Il maltempo che si è abbattuto in questi comuni ha causato gravi danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle attività produttive e commerciali, ai beni e alle persone. Per l'intensità e l'estensione dei fenomeni, la protezione civile ritiene che serve urgenza di intervento e poteri straordinari per un anno. I danni sono stati provvisoriamente stimati in 22 milioni di euro per azioni urgenti indifferibili, mentre altri 30 milioni serviranno per interventi strutturali di riduzione del rischio futuro.